Grazie Presidente e grazie alla Commissione. Con la presentazione di queste nuove proposte si va nella giusta direzione. Più solidarietà tra gli Stati membri sulla cibersicurezza e impegno comune sulle nuove competenze necessarie a garantirla. L'Unione Europea è il più grande mercato digitale integrato del mondo democratico e in quanto tale obiettivo sensibile per attacchi informatici che riguardano l'insieme della nostra società, dai cittadini alle industrie fino alle infrastrutture strategiche e militari. Un fenomeno insensibile aumento che con la guerra in Ucraina assume la dimensione di una vera e propria guerra ibrida. Fronteggiare tutto questo a livello nazionale velleitario occorre oggi una risposta europea. È già a buon punto il lavoro di prevenzione con l'approvazione della direttiva NIS II sulla sicurezza delle reti e la discussione in corso sul regolamento per la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali di cui sono relatrice per il gruppo dei socialisti e democratici. Adesso potremo diventare più forti anche sul fronte della rilevazione delle minacce e della risposta coordinata agli attacchi. Cari colleghi, si tratta di una responsabilità condivisa in questo nuovo mondo digitale dove la sicurezza di ognuno è la sicurezza di tutti. Grazie.